Buonasera, benvenuti in questo posto strepitoso. Io sono Simona Baldelli e questa splendida giovane signora è Giada Borgato e io sono felicissima di raccontare Alfonsina. Posso raccontare un minuscolo particolare episodio che ha a che fare con te? Prego, prego. Buonasera a tutti intanto, anche da parte mia. Ci tenevo molto a dire questa cosa che ha a che fare anche con alcuni temi del romanzo. Questa è una storia di ciclismo, anche di ciclismo. Quando ho iniziato il Giro d'Italia, anzi qualche giorno prima che iniziasse il Giro d'Italia, mi arriva una telefonata dalla redazione dell'Huffington Post. Ero stata intervistata non tanto per il romanzo, ma perché volevano la mia opinione sul fatto che a commentare, da un punto di vista tecnico, il Giro d'Italia ci fosse improvvisamente una donna. Ero anche un po' sconcertata da questa domanda. Dico, ma che domanda? Mi chiedi se sono contenta? Valutiamo la professionalità di chi fa. E certamente sapevo chi era già da Borgato. E quindi ho rilasciato un'intervista dicendo, era ora, anzi mi sembra anche un pochino tardi. Dopodiché ho anche messo dentro una piccola nota polemica. Dico, magari, come dire, visto che è un Giro d'Italia così strano, che viene da un periodo di chiusura, di stanca, non ci saranno grandi eventi per le strade, non ci sarà questo ammucchiarsi dei tifosi. Dico, chissà, forse come ai tempi di Alfonsina, per cui c'era bisogno di una nota di richiamo in più. Dico, fa niente. Magari all'inizio veniamo utilizzate perché fa notizia. La prima donna a fare questo, la prima donna a fare quello. e non se ne può più. Dico, però, insomma, ben venga. Poi, certo, appena una donna che appunto arriva in un ruolo qualsiasi, dove prima non c'era una grande frequentazione femminile, appena fa mezzo errore, eh, 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 tutti pronti a sottolinearlo con la matita rossa, blu, viola, gialla, eccetera. Dico, dopodiché, gli sportivi hanno le spalle larghe anche quando hanno figure armoniose e sottili come quella di Giada Borgato. E poi inizia il Giro d'Italia. E mio padre, che è un appassionato di ciclismo in una maniera, eh, mio padre e uno zio, anche un fratello di mia madre, si chiamano tutti i giorni e commentano la tappa, e la mattina si chiamano parlando della tappa. Dice, ma sai che ci sarà una donna? Era mio padre, ho 86 anni. Ci sarà una donna? Dico, sì, sai che mi hanno intervistato? Ah, ma è, sarà brava, sarà brava. Lui era convinto però che fosse, già lo sapeva. Dico, certo che sarà brava. Dico, poi sai, è una ciclista, è stata anche campionese italiana, come si chiamano le discipline in linea, se non sbaglio? Su strada, sì. Su strada, dico, una pistarde come l'Alfonsina. E ogni sera, dopo aver fatto la telefonata quotidiana con mio zio, discutendo della tappa e anche della fantastica conduzione della tappa, mi chiamava e mi diceva, eh, eh, è brava, è brava l'Alfonsina, perché aveva cominciato a chiamarti Alfonsina. E quindi perdonatemi, ma per me è un'emozione speciale stare qui e parlare di Alfonsina con lei che la incarna, perlomeno in casa nostra. Io ti ringrazio, Simona, per queste parole. E ovviamente mi ci sono rivista un pochino su Alfonsina, no? In Alfonsina. E quando mi è stata proposta di dialogare con te riguardo di questo libro, di questa fantastica storia, ho accettato immediatamente, perché proprio parlando anche della mia avventura al giro di quest'anno e non solo, prima del giro, insomma, ho ricevuto tante chiamate da parte dei giornalisti che mi chiedevano se io mi sentissi un po' come Alfonsina. Io conoscevo la storia di Alfonsina, ma non così in fondo come posso conoscerla adesso dopo aver letto il tuo libro. Ed è una storia fantastica quella di Alfonsina. Io allora ai giornalisti dicevo, no, io non mi sento come Alfonsina. Sì, è la mia prima volta, è la prima volta di una donna commentatrice al giro, però Alfonsina ha fatto delle battaglie ben più difficili rispetto alle mie. Io sono stata scelta da degli uomini. Alfonsina ha fatto tutto da sola e quindi la battaglia di Alfonsina è stata molto differente rispetto alla mia. Poi è vero, come hai detto tu, che una donna fa notizia, al primo errore magari si sottolinea ancora di più il fatto di aver sbagliato la virgola piuttosto che la punteggiatura, piuttosto che un vocabolo o un verbo, però siamo umani e tutti possono sbagliare, dico io. Per me è stata una grande emozione, una grande esperienza quella del Giro d'Italia. Ed è ancora una grande opportunità questa, di questa sera per me, a dialogare con te su questa storia, che è una storia da leggere perché Alfonsina è stata una donna fantastica. e questo romanzo, ispirato alla sua vita, è un romanzo che tratta non solo il tema dello sport, non solo il tema della vita di Alfonsina, ma hai preso dentro tanti temi. Ed è su questo che io mi vorrei un attimo concentrare. Ho elencato un po' i temi che ho trovato in questo libro. Il primo è quello della famiglia, il tema del lavoro, il tema della disobbedienza, il tema dell'amore, delle diseguaglianze, dei pregiudizi e il tema dei limiti. Io penso che questo libro racchiuda tutti questi temi e non solo, perché poi c'è anche il tema della speranza. Ci sono tanti temi, ed è qui c'è la storia di Alfonsina su questo libro. Però è un libro che ad oggi è ancora molto attuale, penso. Credo che tu abbia messo molto del tuo e tutti ci si possano un po' rispiecchiare sulla vita di Alfonsina. E io vorrei andare a punti, partendo dal tema della famiglia. Allora, non ha avuto una famiglia particolarmente accogliente, Alfonsina. Non ha avuto neanche una famiglia, come dire... Io poi lo dico chiaramente in alcuni passaggi del romanzo. In certe situazioni, in certe condizioni, il bene è un lusso. Te lo devi poter permettere. Quando con fatica si raggiunge la sopravvivenza, il tempo per le tenerezze, per l'affetto diventa veramente molto poco. Comunque ci sono distrazioni ben più urgenti e di altro tipo. La famiglia di Alfonsina, Morini, prima che diventasse Alfonsina a strada, era una famiglia veramente, insomma, ai livelli dell'indigenza. Il luogo dove lei è vissuta definisce perfettamente la condizione Fossa Marcia. Già il nome. Una frazione vicino a Castenaso, in provincia di Bologna. Il padre era un lavorante a giornata. Dunque Alfonsina è nata a seconda di dieci fratelli, il 16 marzo del 1891. Il padre era un lavorante a giornata, di quelli che oggi possono andare a fare i braccianti nei campi, domani diventa muratore, dopodomani piove, quindi non si fa nulla di tutto questo. E la madre, invece, per integrare un minimo e lo stretto necessario per vivere, faceva la balia per gli orfani, i trovatelli, i brefotrofi. ricevevano un sussidio dalla provincia e dal comune per vendere, per mettere a disposizione il loro latte, per tenere a balia questi bambini un po' di mesi, se sopravvivevano, se no pochi giorni. E quindi questa era la condizione economica e anche culturale. E anche, forse occorre anche un pochino di consapevolezza, occorre anche frequentare le parole per riuscire ad esprimere davvero i propri sentimenti. E soprattutto poi da parte dei patriarchi, dei padri, quando non sei in grado di provvedere al bisogno della famiglia, quando così la disperazione è tanta, perdi prima di tutto agli occhi tuoi l'autorevolezza. Quindi sai benissimo che nessuno ti riconoscerà nessuna autorità e nessuna autorevolezza. Soprattutto se hai un carattere come quello di Alfonsina. Certo, ribelle, ribelle, onesta nei confronti di se stessa. E quindi è stata una famiglia sicuramente non benvolente. E le famiglie tuttora fanno fatica a benvolere gli elementi della famiglia che si distinguono per una qualche diversità di qualsiasi tipo. Bisogna essere veramente molto strutturati, molto aperti per non sentire addosso lo stigma della diversità, per non sentire il giudizio degli altri, per fregarsene, perdonami questo termine così brutale, ma non mi importa che gli altri giudichino pure, io sono al di sopra. Tutto questo la famiglia di Alfonsina non ce l'aveva. E quindi quando la tua famiglia non ti riconosce, ma capita a tutti, in realtà passiamo la vita a cercare quel complimento, a cercare quell'applauso, a cercare quella gratificazione, no? Di un genitore che ti dica sono orgoglioso di te. Per anni lei ha cercato l'amore della famiglia, no? Nonostante lei fosse vista come la mela marcia, era la vergogna della famiglia, perché lei è giovanissima, ricordo l'episodio in cui quando rubò la bici al padre andava di notte ad allenarsi per non farsi vedere dal padre che non voleva assolutamente toccasse la sua bici, ed era diventata la vergogna poi, perché lei andava ad esibirsi, veniva vista alla Montignola dove si allenava a dare spettacolo, no? A quei tempi una donna in bici era una vergogna e la famiglia non l'accettava. Le gambe nude, i calzoncini. Quindi in una famiglia dove... Questa frase che ha detto, il bene è un lusso per ricchi, loro vivevano nella fame, non c'era tempo per una carezza, e Alfonsina ha corso una vita sperando che i genitori un giorno potessero essere lì a fianco della strada a incitarla. La tappa quella che passava da Bologna, del Giro d'Italia, lei si aspettava la famiglia lì a bordo strada, venne accolta dal pubblico, da tantissimi, ma non da loro. No, quel brava non è arrivato mai. Il schiaffo morale da parte della famiglia. Quanto conta appunto, questo è il tema della famiglia, è importantissimo, un tema che è toccato in maniera pesante perché incide molto sulla vita di Alfonsina, ha cercato l'amore per tutta la vita, ha anche provato a venire incontro, anche mandando soldi, cercando anche di costruire. Ah, di comprarselo quel bene, sì. Sì, ha provato in tutte le maniere ad avere il bene della famiglia, non ci è riuscita, forse un po' con la madre, no? Che forse ha capito in tarda età cosa era riuscita a fare la figlia, ma non è mai stato quel bene che avrebbe voluto Alfonsina. Allora, questo è un romanzo, io sono una romanziera, è basato sulla vita di Alfonsina Strada, tutto quello che io racconto è accaduto davvero, morticini esclusi ovviamente, no, cioè era vero che questi bambini che appunto la madre prendeva bali, a volte sopravvivevano, a volte morivano, ma poi io diciamo che inserisco le anime di questi bambini nel racconto e quindi quella ovviamente è una suggestione mia. Per il resto tutto quello che è scritto qua dentro è accaduto davvero. E quindi sono veri anche gli episodi del viaggio a Parigi che ha fatto la madre di Alfonsina per andarla a trovare, quando poi è diventata famosissima dopo questo giro d'Italia, è diventata una vedette internazionale, si esibiva nei teatri, nei circhi di tutta Europa, anche al Barnum. E in un periodo particolarmente lungo che Alfonsina passava a Parigi, ha invitato la madre e io mi immagino negli anni trenta questa donna pressoché analfabeta che parte da Fossa Marcia da sola per andare a Parigi dalla figlia e aveva poi addirittura imparato anche qualche parola di francese mentre se ne stava là. Ed era stata Virginia, la madre, anche questo particolare è vero, ad esigere che tutti i dieci figli andassero a scuola. Avevano fatto solo due anni di elementari, ma per l'epoca erano tantissimi. Tutti i fratelli di Alfonsina Strada sapevano leggere e scrivere. E quindi io ho avuto la sensazione che questa donna potenzialmente fosse di una modernità straordinaria per l'epoca e anche lei per le condizioni dalle quali proveniva. E sai, anche lì, per diventare ancora più aperti, per diventare consapevoli delle cose, per diventare quello che si potrebbe essere, bisogna che ci siano attorno a noi le condizioni giuste. E lei finché se ne è stata a Fossa Marcia a fare un figlio dietro l'altro e probabilmente faceva un figlio dietro l'altro per continuare ad avere latte, poter dare, a mangiare sostentamento ai figli che venivano prima con il latte venduto di quelli dopo. E sai, per capire chi sei devi avere la possibilità di capirlo, devi avere il tempo, devi essere sazio, devi poter dire, ci sono anch'io. E io sono convinta che non solo per la prima volta si siano capite madre e figlia, ma che Virginia per la prima volta abbia capito e conosciuto qualcosa di se stessa. Sicuramente in quel viaggio lei ha avuto una grande opportunità perché come hai detto è sempre rimasta chiusa nel suo vetto di fame e non era mai uscita grazie alla figlia. In una capanna Fossa Marcia, ma che fai? Però è stato fantastico quel viaggio proprio per capire se stessa e capire la figlia. Ha capito solo a Parigi le potenzialità della figlia quando si accorda che Alfonsina conosceva il francese si era stupita. Però penso sia stata anche orgogliosa di se stessa quando appunto avrà pensato sono stata io a voler che questi ragazzi i miei figli imparassero a leggere. Quindi l'impronta della madre comunque c'è sempre stata per Alfonsina una guida seppur lontana seppur piccola c'è stata. Io credo sì che la scelta ad esempio di quei due anni di scuola sia stata sia stata fondamentale. Ma allora per quello che riguarda questo episodio a Parigi io credo che sia un po' anche quello che succede a noi perché ci piace tanto viaggiare non solo per vedere posti nuovi cose belle architetture particolari una natura esplosiva ora non per fare quelli con tante cose belle che ci sono da vedere in Italia perché mai andare all'estero e ci andiamo perché non solo ascoltiamo lingue diverse vediamo paesaggi diversi culture diverse ma perché non abbiamo più la storia nostra che ci portiamo dietro non dobbiamo somigliare a noi stessi le persone che incontriamo non si aspettano da noi che continuiamo ad essere quelli che siamo sempre stati possiamo trasformarci possiamo essere una cosa nuova potremmo incontrare qualcuno in una piazza e inventare per noi un altro nome un'altra identità un altro lavoro quello che davvero potremmo essere diventiamo nuovi e io credo che a Parigi sia successo questo per tutte e due per Virginia soprattutto perché Alfonsina già ormai aveva cominciato a girare di fatto la famiglia è un tema importante in questo romanzo e ovviamente questo è una bella parentesi tra madre e figlia però la maggior parte dei momenti sono stati momenti brutti con Alfonsina che voleva scappare dalla realtà dove era cresciuta un'alfonsina che ha cercato l'amore Alfonsina che è stata sempre insultata da tutti però quell'insulto da parte della famiglia le aveva creato quel solco che fa male e allora è lì che dici quanto conta il sostegno della famiglia quanto influisce anche la famiglia nelle scelte di tutti i giorni avere il supporto significa andare incontro a un destino con maggiore consapevolezza e anche una buona dose di morale se non si ha il supporto della famiglia diventa tutto molto più complicato e quindi mi sono messa nei panni di Alfonsina decidere di andare verso una è come se a me avessero detto Giada vuoi fare il giro d'Italia vuoi fare la commentatrice a casa ma avessero iniziato a dire no tu non vali tu devi stare qui devi trovarti il posto fisso e non ce la farai mai andrai incontro a critiche sei una donna come sarei partita io per il giro d'Italia non con le donne purtroppo lo sanno ci dicono sempre tu non sarai mai abbastanza e quindi però però fortuna ce ne freghiamo per fortuna i tempi sono cambiati però di queste realtà ce ne sono ancora molte io per esempio ho avuto la fortuna di avere sempre il supporto da parte della famiglia sia quando ero un atleta da ciclista sia ora nel mestiere di commentatrice avere il supporto per me figlia vuol dire tanto siamo tutti figli per cui ognuno ha una storia avere il supporto della famiglia e sono partita proprio con il tema della famiglia perché penso sia io sono molto legata alla mia famiglia e credo che tu abbia toccato un punto veramente dove tutti chi leggerà tutti coloro che leggeranno questo libro penso che si riconosceranno in questo e si metteranno nei panni di Alfonsina perché è stato il suo primo scoglio la famiglia io credo che i libri siano di chi li legge non di chi li scrive e ognuno se leggendo trova una cosa vuol dire che c'era nel diciamo nel mio progetto nella mia idea sì per carità voglio dire chiaro che questa cosa non era così preponderante il tema della famiglia però mi rendo conto che e come dire non era preponderante ma certo ritorno in molti episodi perché questo è il tema come dicevo prima dell'essere umano cioè se non sei riconosciuto se non sei accettato in casa e questo vale se come dire arrivi a casa con un compagno una compagna di un colore di pelle particolarmente diverso hai un orientamento sessuale o religioso che al di fuori del del seminato di quello che gli altri hanno magari deciso o hanno proiettato su di te è chiaro che crei sconquasso e se devi stare a spiegarti a implorare l'accettazione dentro casa tu non ce l'avrai mai nel corso della vita sarai sempre qualcuno che cammina a zoppo sarai sempre qualcuno a cui mancherà dentro un pezzo di cuore un polmone mancherà il fegato sarai qualcuno smembrato indipendentemente dal fatto che si tratti del 1800 o del 2021 non cambia niente se non ti riconosce la comunità cioè se non ti riconosce chi ti ha chiamato al mondo è un dolore insanabile insanabile dopo di che lei come dire non si è lasciata a zoppare per fortuna direi proprio di no l'altro tema è il lavoro lavoro che ai tempi ovviamente era anche lì una cosa difficile da avere da trovare il lavoro del ciclista era una cosa per uomini la bici era per gli uomini perché loro dovevano sfogare le loro energie la donna era qualcosa di più esile doveva badare alla casa doveva badare alla famiglia fare i figli quindi il tema del lavoro è anche un tema di questo romanzo no e Alfonsina faceva la sarta iniziò proprio ad andare in bicicletta era una passione ma poi trovò questo posto di lavoro a Bologna e lei coniugava le due cose faceva allenamento per andare da casa a Bologna lavorava veniva derisa tutto il tempo anche dalle colleghe che erano imbarazzate le metteva a disagio ovviamente lei nelle pause di lavoro andrava alla Montagnola questa pista di terra battuta dove si allenava con i grandi corridori dove prendeva spunto da questi atleti ed Alfonsina però non voleva rimanere a fare quel che facevano le altre le sarte i lavori da donna lei voleva fare i soldi con la bicicletta lei ci credeva e forse voleva anche i soldi per scappare da una realtà perché lei aveva il desiderio di trasferirsi di andare a Torino di andare a Milano di iscriversi all'unione velocipedistica italiana quindi c'è anche un tratto che parla del lavoro e dell'indipendenza lei se poteva lei voleva fare i soldi per scappare da una realtà e diventare anche in qualche modo indipendente e anche questo dell'indipendenza tra le donne insomma è una cosa che è venuta col tempo piano piano sì è rivoluzionaria perché una persona che è indipendente non la controlli cioè non la ricatti non sei mantenuta o mantenuto da qualcuno infatti la differenza la fa non tanto il lavoro quanto la retribuzione perché le donne lavorano gratis da sempre e anche questo ha cosano per cui le donne hanno lo sforzo fisico ad un certo punto lo dico anche chiaramente le nostre nonne per esempio non l'hanno mai vista una lavatrice allora proviamo ad andare a gennaio con i piedi a mollo in un lavatoio al fiume da qualche parte e comincia a lavare lenzuola e asciugamani poi mi dici se quello è un duro lavoro fisico oppure no la differenza però la fa la retribuzione perché che le nostre nonne bisnonne andassero al lavatoio al fiume in gennaio a stare lì ore e ore a insaponare e poi a sciacquare panni non è mai considerato lavoro che tu te ne arrampichi ti arrampichi su e giù per le scale a pulire che ne so le mensole più alte i vetri e a fine sera le rini spezzate non è fatica non è lavoro non è ritribuito la al di là del fatto di fare soldi e andarsene io credo che fin dalla prima volta in cui Alfonsina ha visto una bicicletta e e ovviamente non ci poteva salire sopra il padre non voleva che i figli le figlie soprattutto montassero quella bicicletta perché era sua era una cosa da uomini ci andava ci si spostava per andare a cercare lavoro nella zona io credo che lei abbia capito col corpo ancora prima che con la testa perché il corpo le capisce meglio le cose con più chiarezza della testa abbia capito che non era solo una questione di lavoro di retribuzione di indipendenza era una questione di felicità quella felicità a cui avrebbe diritto ogni essere chiamato a questo mondo perché non lo chiediamo noi veniamo invitati e allora quando invitiamo qualcuno anche semplicemente a casa a prendere un caffè abbiamo cura di fargli trovare una tazzina carina una tovaglietta o anche un biscottino vicino dove ci sediamo un posto comodo gli dobbiamo far festa a questo qualcuno che abbiamo chiamato dobbiamo fare in modo che possa avere nella sua vita anche solo per un attimo per una frazione di secondo che abbia l'esperienza della felicità e Alfonsina ha capito che questa felicità questo rispetto che doveva a se stessa lei l'avrebbe ottenuto soltanto pedalando andando via lasciando forza marcia infatti mi piace un passaggio dove dici Alfonsina non capiva quale fosse la pazzia nell'andare fin dove le gambe la portavano conoscere la propria forza il proprio valore certo certo lei voleva fare ciò che amava andare in bicicletta lei si faceva anche la sarta avrebbe fatto qualsiasi lavoro però lei voleva fare quel che amava fare andare in bicicletta poi se fossero arrivati i soldi meglio ancora si perché il lavoro va retribuito però lei di base voleva fare ciò che amava fare ma questo la gente non andava bene perché era qualcosa di scandaloso al tempo sì ma guarda è scandaloso anche adesso abbiamo così tanta io mi auguro come dire che le nuove generazioni quelle che adesso sono sono ancora bambini sono ragazzini si liberino completamente di questa cosa del giudizio per cui devi stare sempre lì col dito puntato questa cosa non sta bene questo non si fa non dovresti farlo hai le gonne troppo corte hai i pantaloni troppo larghi hai i capelli troppo non so che cosa uomini o donne c'è sempre qualcuno che dice come dovresti essere cosa dovresti fare che è una cosa cattiva è una cosa cattiva questa cosa del giudizio io non so da quale tradizione da quale spesso proprio da questi tempi e le donne le donne le sono in una maniera folle le nemiche più grandi di Alfonsina io poi tutti gli articoli anche dall'epoca che riporto quindi non solo quelli dei giornali sportivi la gazzetta il guerriero sportivo anche il corriere della sera ma le riviste femminili che bisogno c'è di riviste femminili va bene ed erano donne erano giornaliste erano direttrici di queste riviste che scrivevano delle cose terribili feroci nei confronti delle donne che facevano sport o nei confronti delle donne che fossero non classificabili o che non fossero così identiche come la società dell'epoca le disegnava feroci ma questa cosa non ce la siamo ancora dimenticata ne parlavo nel corso di una presentazione qualche giorno forse era la spezia quando l'ho detto per la prima volta lo facciamo ancora fra amiche credendo che sia un modo di fare guarda quella là a 70 anni magari ancora si mette la minigonna e io sono stata una che ha avuto pensieri di questo genere perché sono stata formata per averli pensieri di questo genere e quando ho capito che era una cosa orrenda da parte mia ho iniziato a fare forza su di me per cui se mi veniva da pensare guarda quella non è sconveniente brutta cretina e insultandomi poco alla volta mi sono raddrizzata e adesso non mi viene più neanche da pensare ad una cosa che non tollero da parte di nessuno ma che siamo veramente per giudicare per far del male agli altri ma se uno si sente felice non danneggiando non danneggiando chiaro gli altri ma perché ma chi siamo noi sempre con questo dito puntato e le donne lo fanno mille volte più degli uomini siamo le peggiori nemiche di noi stesse non ci vogliamo mai bene se vediamo una di 90 anni che va in giro col rossetto la 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 i capelli fucsia e la minigonna ma dobbiamo solo andare ad abbracciarla ringraziarla perché un'apripista per tutte quelle che verranno dietro e che a 90 anni vorranno avere i capelli fucsia il rossetto e non so andare in giro con lo scafandro perché no perché no a chi fa del male è vero è vero questa è una verità anche a me è capitato di giudicare ma certo purtroppo lo facciamo è una meredità che raccogliamo ma sai anche rimanendo sempre nel mio mestiere ci sono tante adesso siamo nell'era dei social dove tutti si mettono in mostra e tante volte mostriamo anche i lati di noi che non ci rappresentano veramente io seguo anche tante ragazze giovani che fanno il ciclismo di adesso e carine e tante volte mettono in prima pagina il loro aspetto fisico e vengono giudicate per l'aspetto fisico magari una fa una foto in più una posa in più e tutti iniziano già a dire questa c'è già la testa per aria questa non fa più l'atleta questa pensa a fare la modella poi arrivano i risultati e i risultati sono da parte della ragazza e lì tutti i tuoi giudizi pregiudizi vanno a quel paese perché pensi per mesi e mesi ho parlato male ho giudicato male questa ragazza piuttosto che un'altra pensando che non fosse più concentrata nel suo lavoro per cosa perché magari si valutava l'aspetto estetico o quello che semplicemente metteva in mostra e ti rendevi conto e ti rendi conto tutto ad un tratto che invece faceva sia mettersi in mostra che è libero di farlo no? siamo nel 2021 e tutti sono liberi di fare ciò che vogliono basta non guardare poi se infastidisce sì tra l'altro se però uno poi fa il suo mestiere riesce a farlo anche bene qual è il problema? se uno come hai detto tu se uno piace andare in giro col cappello di fiori ma dov'è il problema? purtroppo però siamo stati educati ma soprattutto nel tuo campo ci sono atleti straordinari che sono stati rovinati da questo abbiamo visto ad esempio anche la Simone Weiss alle scorse Olimpiadi abbiamo distrutto dei potenziali campioni per stare lì a giudicare a sindacare a torturare e penso ad esempio a Mario Balotelli per uscire dal ciclismo per rimanere sempre nell'ambito dello sport non lo so i social hanno veramente moltiplicato questa nostra deleteria abitudine a mettere becco a dover per forza esprimere un'opinione su tutto cioè accade una cosa tu scrolli c'è 100.000 opinioni siamo tutti liberi di giudicare sì ma perché? le apparenze perché alla fine i social sono quello che non ci è ben chiaro è che nel momento in cui esprimiamo un giudizio in realtà ci esponiamo a nostra volta ad essere giudicati perché è chiaro che nel momento in cui dici questa cosa non si fa stai dicendo come tu sei stai dicendo i tuoi limiti stai dicendo che tipo di morale hai cioè ti stai veramente spogliando mettendoli nudo per cui stai ti stai raccontando come bacchettone come retrogrado come quindi sta zitto ci fai più bella figura sta zitto non giudicare nessuno non giudicare tentalo per te e abituati anche a non esprimere giudizi abituati perché si può fare è un lavoro da fare su noi stessi assolutamente sì però i giudizi appunto a volte possono schiacciare se uno invece ha del carattere va avanti per la propria strada e Alfonsina tornando al romanzo è una disobbediente se vogliamo vedere è diciamo bonariamente una disobbediente perché lei non è cattiva anzi Alfonsina è una donna molto buona è una ragazza molto buona però per fare ciò che vuole fare deve per forza disobbedire e la prima disobbedienza è quella al padre no? l'abbiamo detto anche prima quando va a rubare va a rubare prende la bici del padre ma non poteva farlo perché donna perché era un oggetto prezioso per il padre un oggetto che serviva per andare a lavorare per portare a casa il pane quindi quella è stata la prima disobbedienza e poi la disobbedienza alla società una società che appunto imponeva un destino a lei segnato se vogliamo vedere perché tutte le donne dovevano fare un certo percorso quindi lavorare badare alla casa ai figli e quindi anche lì quanto incide il carattere di una persona se a lei avessero detto Alfonsina tu devi fare la casalinga devi lavorare devi fare i figli e lei avesse avuto un carattere come tante di sottomissione non sarebbe mai stata l'Alfonsina che poi è diventata invece con una disobbedienza non cattiva perché a volte disobbedire sembra quasi una brutta parola sei disobbediente lei è stata disobbediente ma per un buon motivo per una buona causa per costruirsi un futuro migliore lei ha obbedito a sé io ho degli amici che sono profondamente infelici perché avevano i nonni che ne so avvocati il padre avvocato sono costretti a farlo avvocato e sentono questa cosa come una gabbia folle vorrebbero fare altro non lo fanno perché a qualcuno disobbedisci quindi disobbediamo a noi o disobbediamo si sceglie magari si può anche essere disperati disobbedendo agli altri e obbedendo a noi stessi però secondo me se c'è una possibilità di essere felici anche solo per due minuti è a noi stessi che dobbiamo obbedire ripeto sempre nel rispetto degli altri senza creare danni senza far del male ma vivere in felice è una cosa brutta un gran bel po' per dirla come diciamo dalle mie parti però queste sono tutte cose magari brutte della vita di Alfonsina queste lotte però va detto che comunque l'amore l'ha conosciuto Alfonsina grazie a un uomo Luigi Strada dal quale ha preso il cognome e che nel nome l'ha indicato la via allora io credo che questi due siano stati complici su un sostegno incredibile l'uno nei confronti dell'altro avranno avuto un affetto immenso probabilmente ci sarà stato anche amore allora si sono conosciuti lui era a Bologna ai bordi dei giardini della Montagnola quindi là dove c'era questa pista interrabattuta dove si allenavano e facevano anche delle gare di ciclismo e lui era un appassionato di ciclismo al punto tale che andava a vedere anche diciamo le scaldapista quindi le gare femminili e deve essersi invaghito di questa ragazza che andava in bicicletta prima dell'atleta probabilmente e poi anche della persona ma si sono conosciuti il loro rapporto iniziato che lei aveva 14 anni e lui 17 e dopo qualche mese già si sono riconosciuti io credo che che appartenessero alla stessa specie erano tutte e due un po' un po' fuori diciamo dei disegni canonici e dopo qualche mese già sono scappati insieme a Torino dove lei poi appunto si è iscritta all'Unione Velocipedista Italiana e lui ha continuato il suo lavoro di meccanico gesellatore piccole invenzioni e si sono sposati poi dopo anni prima con il rito civile e poi dopo anni ancora quando improvvisamente le nuove leggi non riconoscevano più come valido il matrimonio civile sono anche stati costretti non volevano farlo ma sono stati costretti a fare anche il matrimonio religioso e il giorno del matrimonio diciamo in municipio lei ha ricevuto da questo marito non solo il cognome che poi ha portato per tutta la vita e che le ha indicato veramente la strada che era strada appunto ma ha ricevuto la sua prima bicicletta nuova da corsa il regalo di nozze di Luigi Strada ad Alfonsina è stato è stato la bicicletta e questo perché appunto gli uomini non è che siano sempre nemici anzi Alfonsina ha incontrato tanti uomini che sono stati importanti e sono stati dei dei sostegni dei punti di appoggio per la sua carriera e anche per lei per lei come persona e credo che finché hanno avuto l'opportunità di stare insieme si siano voluti un bene un bene incredibile sicuramente ci sarà stato anche amore dopodiché un pochino se penso a questa parola riferita a loro forse perché me li vedo così piccolini ragazzini 14 anni lei 17 lui non lo so credo forse siano stati anche dei grandissimi compagni di giochi direi di Sida come hai scritto su appunto Luigi Strada e l'amore che ha avuto Alfonsina anche quando poi si è ammalato no? questo uomo che quasi non capiva più niente però aveva sempre una frase da dire ad Alfonsina quanto sei bella Alfonsina non scendere mai e questa frase Alfonsina se l'è portata sempre dietro con sé ed è stata anche un motivo per continuare nei momenti difficili anche quando voleva mollare lei pensava a quell'uomo che l'aveva sempre sostenuta fin da bambini fino a quando a 33 anni è andata al giro d'Italia nei momenti bui nei momenti in cui voleva mollare comunque tornava in mente Luigi Strada l'amore che ha avuto lui per lei il sostegno perché come dire l'aveva anche riconosciuta nel senso di rispettata le aveva dato quello che dalla famiglia di provenienza non aveva mai avuto lì però abbiamo qualcuno che crede in noi cascasse il mondo io credo in te e non è una cosa da poco è una cosa importantissima anche per l'epoca di allora stiamo parlando di una donna anche per quella ci stavo arrivando cioè quanto vuol dire avere un compagno che crede nel tuo talento che ti sostiene costi quel che costi e avere tutto il mondo contro però avere una persona che è anche il tuo compagno di vita che ti sostiene ti supporta e ti accompagna nelle tue avventure penso sia qualcosa di importantissimo vuoi avere il mondo contro però sei una persona ed è quella giusta che ti cammina a fianco puoi andare molto lontano quindi Luigi Strada nella vita di Alfonsina nonostante sia morto molto presto perché la sua morte è venuta nel 42 insomma la sua vita è stata anche molto difficile perché appunto poi si è ammalato è stato in mani in come insomma però è un uomo che ad Alfonsina ha dato tanto ha dato anche lui in qualche modo un futuro perché poi sposandosi la madre aveva detto Alfonsina voleva andarsene da casa e aveva detto come posso farlo e la madre disse l'unico modo è sposarsi il modo che usiamo tutte ti spose e lei fatalità trovò quest'uomo che la amava e l'ha dimostrato con i fatti sostenendola fino alla morte e penso sia vuoi che parli di Luigi allora no no per me siamo stati penso è che io su questi due vedo una proiezione allora io ho conosciuto questo testo grazie a Margherita questo testo è nato grazie a Margherita Huck che ho avuto l'opportunità di conoscere pochissimo prima che morisse e quando l'ho conosciuta a Margherita Huck fra l'altro lei era stata un'atleta è stata campionessa di salto in alto di salto in lungo ha fatto gare in bicicletta l'ho conosciuta ed era con il marito Aldo De Rosa li ho conosciuti che erano già molto anziani aveva 87 anni lei 89 lui e Aldo De Rosa era già abbastanza malato di Alzheimer e quindi aveva ogni tanto questa testa che andava e veniva e quindi mentre io e la Huck l'avevo invitata ad un festival di cui curavo la direzione e in quegli anni stavamo lì preparando queste conferenze delle cose da fare e a un certo punto lui interveniva nel discorso oh Marga dimmi Aldo ti ricordi quella volta che siamo andati là che abbiamo fatto questa questa cosa e lei diceva no Aldo dimmi e lui raccontava l'episodio grazie per avermelo detto non me lo ricordavo grazie grazie e ricominciamo a fare le nostre cose dopo un po' lui oh Marga ti ricordi quella volta e ripeteva esattamente lo stesso episodio e lei che si rivolgeva a lui e gli diceva no Aldo dimmi non me lo ricordo e lui rispiegava questa cosa e lei grazie grazie ma così per 3 4 5 10 volte e lei ogni volta dimenticava tutto non esisteva più nessun altro al mondo ma una volta che avesse avuto un sospiro di sopportazione anche se trattenuta o uno sguardo un po' imbarazzato no? nei nostri confronti come dire scusate niente non esisteva il mondo esisteva soltanto questo uomo lei che gli si rivolgeva e mentre gli parlava gli sistemava il colletto della camicia gli lisciava la piega dei pantaloni se lo aggiustava e siccome fra le cose di cui abbiamo parlato in quei giorni con Margherita Haag c'era e lei lo diceva con una soddisfazione la sua partecipazione la sua interpretazione di Alfonsina Strada nel brano che i tè debois hanno dedicato a lei alla corridora Alfonsina e la bici se ve lo cercate su Youtube c'è Margherita Haag in tuta da meccanico che lì che aggiusta una bicicletta e spiega a una bambina come funzionano le ruote i pedali mentre va a questo brano dei tè debois poi Margherita Haag è morta e io sono andata a cercarmi questo brano ho sentito il bisogno di raccontare la storia di Alfonsina Strada e mi sono sempre tenuta Margherita Haag come nome tutelare vicino a me e per quello poi entra anche così tanto la luna in questo romanzo perché per me era una proiezione di questa donna che se ne stava con i fianchi appunto sul sellino e lo dico anche in esergo è dedicato a lei e gli occhi fra le stelle e quando poi ho scoperto di questa pazzia non Alzheimer in quel caso proprio pazzia da parte di Luigi Strada e lei che continuava comunque ad occuparsi ad andare lì quando mi sono immaginata questi due ho detto Margherita perdonami ma io vi prendo a prestito anche nei modi nei gesti e in questo vostro essere complici fino all'ultimo istante io prendo Margherita e Aldo e li faccio diventare Alfonsina e Luigi e quindi ecco io parlo molto volentieri di Luigi Strada perché per me è la proiezione di qualche cosa che ho visto con i miei occhi e io un rapporto così solidale così onesto così franco fra due persone non l'ho mai mai visto nella vita e quindi Alfonsina e Luigi sono loro due l'altro tema mi ero segnata appunto come ho detto all'inizio un po' di temi è appunto le diseguaglianze e i pregiudizi ne abbiamo già parlato diciamo in abbondanza quindi andrei avanti e andrei al tema del limite che penso sia il tema centrale di questo romanzo il limite Alfonsina che voleva cercare i suoi limiti a tutti i costi allora io sono una malata di sport come dire da divano nel senso che seguo qualsiasi da ragazzini quando fai le medie al liceo fai la staffetta il salti in alto un po' di cose così ma insomma non l'ho mai praticato e per me la bicicletta è un mezzo di trasporto poi sono di Pesaro dalle parti nostre nasciamo in bicicletta e quindi ci piacciono le ruote biciclette moto macchine la velocità là dove ci sono le ruote amo lo sport da sempre ed era un pezzo che mi diceva ma perché non racconti una storia in qualche modo dove fino a che poi mi sono imbattuta in Alfonsina e poi la gente mi dice e me lo dice tuttora ma perché perché guardi lo sport perché ti interessano le partite perché nel periodo delle olimpiadi tranne quando dovevo girare con Alfonsina comunque ero sempre lì col telefono a vedere risultati gli highlights che ti importa dello sport come che mi importa dello sport a parte che fa parte di questo mondo e della vita e quindi tutto ciò che fa parte di questo mondo e della vita mi interessa ma soprattutto mi affascina e non smette di commuovermi il fatto che lo sport è la rappresentazione costante perenne della lotta dell'essere umano contro i suoi limiti sia fisici che mentali e spesso li supera un esempio che faccio spessissimo Usain Bolt che fa i 100 metri in 9 secondi e 58 centesimi non ci sta dicendo che Usain Bolt può correre a quella velocità ma che l'essere umano il genere umano può farlo uno sportivo ci dice costantemente che quelli che noi pensavamo fossero i nostri limiti il nostro orizzonte in realtà sono più larghi sono più lunghi siamo un po' meno mortali o siamo un po' più immortali se vogliamo vederla da quest'altro punto di vista di quanto non abbiamo pensato e Alfonsina Strada non solo per diciamo i risultati sportivi che ha raggiunto poi lei fece quel giro d'Italia all'età di 33 anni che come dicevamo prima per l'epoca erano tantissime soprattutto per il tipo di vita che lei aveva avuto e dopo anni in cui non aveva fatto una gara perché con il regime tutte le gare femminili di tutti gli sport di tutte le discipline erano state annullate e soprattutto lei era una pistarda lei faceva gare su pista e esibizioni come dire si esauriscono in un'unica giornata non aveva mai fatto una gara a tappe non aveva neanche negli anni diciamo dell'agonismo non aveva mai fatto una gara di quel genere e una gara a tappe ha un allenamento completamente diverso ha la necessità di avere fiat due giri di Lombardia ma era una gara di un giorno niente a che fare con una gara a tappe di 12 tappe erano 3613 km 12 tappe perché all'epoca facevano un giorno di tappa e un giorno di riposo e quindi si trasferivano la più corta 230 la più lunga 415 km e si mettevano in bicicletta all'alba e a maggio l'alba ce l'abbiamo intorno alle 5 e mezza e arrivavano dopo il tramonto quindi dopo le 10 di sera immaginatevi quindi no senza allenamento con le bici di allora dove dovevano sistemarsi più volte fora deve cucire con i tubolari qua di traverso con un sacchettino dove c'era che ne so un cacciavite una cosa e ago e filo ma non solo per ricucire l'ordito dei copertoni ma anche per ricucire se stessi perché non c'erano le ammiraglie che ti venivano dietro e quindi ti cambiavano la ruota no tu ti tagliavi ti rompevi ti ricucivi ripartivi sulla bicicletta e andavi quindi non solo questo limite fisico incredibile è riuscita a superare ma anche il limite che le veniva da fossa marcia perché l'astronomo e qui torna Margaret Huck l'astronomo che scopre un nuovo satellite però come dire aveva una preparazione dietro hai studiato ti sei laureato in astronomia sai leggerle le carte del cielo ma se sei nato a fossa marcia con niente attorno e non sai neanche che esista qualche cosa oltre a quel rigagnolo dell'idice devi fare uno sforzo immaginifico mostruoso ti devi immaginare l'inimmaginabile devi riuscire a pensare l'impensabile questa donna è riuscita a inventare un mondo che non c'era non è solo andata perché che una donna vada in bicicletta non mi genera stupore no? cioè soprattutto se lo fa di mestiere oh guarda metti una ciclista in bicicletta e lei pedala oh allora chi ha quella che pedala più o meno forte quella che raggiunge i risultati e quella che non li raggiunge ma non c'è nulla di miracoloso ma che tu nasca nel 1891 a fossa marcia in quella realtà lì e che arrivi ad essere una vedette internazionale impari le lingue avendo parlato a malapena quella in cui sei nata e improvvisamente diventi la regina della pedivella e c'è ci sono gli ammiratori che ti bloccano per strada perché ti devono mettere un diadema di diamanti in testa e ragazza mia hai inventato l'universo che prima non c'era sei andata oltre qualsiasi limite qualsiasi io mi ferbero quando parlo di Alfonsina abbiate pazienza mi invaso ma bisogna leggerlo questo libro perché veramente ci insegna tante cose Alfonsina a credere prima di tutto in noi stessi e a provare a superare questi limiti a non mollare mai e poi un altro insegnamento è che non sempre si può vincere perché Alfonsina arriverà a Milano il primo giugno giusto fuori classifica certo perché in una tappa arriva fuori tempo massimo quindi viene messa fuori classifica ma decide di arrivare a Milano di portare a termine il giro d'Italia e quindi ci insegna anche che non sempre si può vincere ma l'importante è provarci guarda questa cosa ce l'ha raccontata in tre anni e mi faceva tenerezza domenica mentre diceva avevo provato anche a cambiare il capotecnico ho voluto convincermi che non c'era veramente niente da fare la parabola discendente di Valentino Rossi uno che ci aveva abituati a crederci noi immortali di più avevamo una vita più lunga degli dei immaginandoci sentendoci sulla motocicletta insieme a Valentino Rossi il quale improvvisamente lentamente ha cominciato a non vincere più allora è chiaro che innanzitutto hai 43 anni hai 20 anni attorno hai come dire è chiaro che non hai più la prima moto la dai agli altri poi e questa è una cosa che ad esempio ho capito anche su di me come direi proprio perché cominci arrivato ad un'età più matura cominci a capire di non essere immortale ci tiene molto di più alla vita quindi se stai se stai facendo l'alcavatappi di Laguna Seca finché avevi 20 anni e dici ma provo quando arrivi a 35 36 37 40 anni a me è successo già prima perché ho smesso di correre a 25 anni a 18 anni 20 dalle discese mi buttavo giù come una pazza a 25 iniziavo a tirare i freni 100 metri prima della curva ero giovane però cambi nella mentalità certo però noi un 43enne che partecipava a un mondiale non l'avevamo mai visto fino a questo momento comunque è un limite che ha superato perché si può anche non vincere non è obbligatorio vincere allora a parte che pare che non l'abbia detta neanche De Coubertin questa cosa terribile l'importante è partecipare che io trovo insopportabile e la trovo un insulto per lo sport e in generale della vita l'importante è dare il massimo l'importante no partecipare cioè un po' di rispetto è per te come professionista è per chi sta lì a vedere te che stai cercando di dare il massimo no l'importante è partecipare l'importante è dare tutto quello che si ha si può vincere si può non vincere si può arrivare ultimi ma abbiamo provato ad andare contro il nostro limite di quel momento il nostro limite di quel momento certo che si può anche non vincere fra l'altro Alfonsina innanzitutto non era andata là per sfidare gli uomini era andata là perché era proprio un problema di sopravvivenza allora il marito in manicomio da mantenere a parte durante il ventennio era finita la grande guerra la prima guerra mondiale qualche anno prima cioè figuriamoci la povertà in generale lei aveva anche questa famiglia sterminata che stava in qualche modo tutta sulle spalle sue manteneva anche i figli dei nipoti quindi figli dei fratelli e delle sorelle nei collegi dove li mettevano perché non avevano di che sfamarli occorreva denaro che posso fare vado in bicicletta gare femminili non ce ne sono più vado a chiedere di poter partecipare a quella degli uomini l'altra volta in cui aveva chiesto di partecipare il Giro d'Italia e l'hanno detto no quell'anno lì perché i grandi campioni Bettecchia Girardengo non avrebbero partecipato quindi mancava un richiamo per questione di soldi chiedevano un ingaggio più alto di quello che l'organizzazione che la gazzetta dello sport era pronta a riconoscere quindi manca un richiamo oh è tornata l'alfonsina strada a bussare alla porta della gazzetta dello sport e quell'anno le hanno detto di sì probabilmente pensando non solo di utilizzarla come specchietto per le allodole ma anche che si sarebbe ritirata dopo due o tre tappe e invece questa tignosa è arrivata fino alla fine quell'anno si iscrissero in 108 si presentarono al via in 90 e arrivarono alla fine in 30 e l'alfonsina strada era fra questi 30 ed è più di una vittoria allora certo c'è arrivata fuori classifica e possiamo anche dire fuori classifica se dico qualche particolare in più di qualche episodio non mi dispiace già erano finiti fuori classifica due uomini prima di lei nella tappa precedente e variale e cugne avevano detto no però vabbè vi permettiamo lo stesso non siete più nel totalizzatore chiaro ma vi permettiamo continuerete ad avere la diaria continuerete ad essere sfamati perché molti si scrivevano anche per poter mangiare avere il sacco con le provviste vi permettiamo di arrivare con noi fino a Milano quindi quando la tappa successiva Alfonsina è arrivata oltre il limite massimo che era di tre ore diciamo si veniva squalificati se l'ultimo arrivato arrivava a tre ore di distanza dal primo qualificato e lei è stata squalificata perché ora ad esempio è entrato come dire nella mitologia dello sport quel nuvolari che andava in macchina anche senza il volante quando si rompeva durante le gare nella mille miglia e lui lo arpionava con le mani o con la chiave inglese ad Alfonsina durante l'ottava tappa quella che dall'Aquila andava a Perugia capitò di cadere cade una volta cade due cade tre quindi oltre ad essersi massacrata lei l'ultima rovinosissima caduta lei era già in fondo alla fila le si è staccato di netto il manubrio toc e dice qua non posso più andare in bicicletta gli altri erano tutti avanti dice prima o poi si accorgeranno magari questa notte alle tre le quattro di notte vedranno che l'Alfonsina strada non è arrivata verranno a cercarmi in mezzo ai monti d'Abruzzo si siede su una pietra e comincia a piangere questa è storia e io ho dovuto soltanto raccontarlo questo episodio si mette a piangere ti sente toccare una spalla c'è una donna uscita da una capanna lì vicino che le chiede perché piangi e lei dice io sono Alfonsina strada sto facendo il giro d'Italia non ho più una bicicletta perché mi si è staccato di netto il manubrio la donna va in casa ne esce con la scopa di saggina spezza il manico della scopa io piango tutta la volta in cui racconto questa cosa e con uno spago glielo lega fa passare sotto lega questo manubrio quindi lei ci sale sopra e dice io più o meno riesco a governare alla ruota non aveva ovviamente più freni doveva affrontare discesa ancora dall'Abruzzo a Perugia l'Appennino l'ha fatto ed è arrivata con tre ore e quarantadue minuti di ritardo guidando su un manico su un pezzo di manico di scopa e se non è andare oltre qualsiasi limite quella roba lì io non so immaginare niente di diverso quindi sì chi se ne frega è arrivata fuori tempo massimo ma porca miseria e io quando ho deciso di raccontare questa storia la prima cosa che ho fatto sono andata su Google per vedere e mi immaginavo che già non so avessero scritto su di lei dieci romanzi 15 sceneggiati 27 serie non c'era niente se non qualche citazione qua e là ad esempio credo stia nella raccolta delle fiabe della buonanotte per le bambine ribelli un altro testo sempre per ragazzi veloce come il vento ma che davvero qualcuno avesse preso questo personaggio per darle lo spazio non c'era come è possibile come è possibile perché è una donna e il ruolo eventualmente non potrebbe essere interpretato da Beppe Fiorello non so perché perché non si sa niente soprattutto ora con l'orizzonte anche così stretto così misero così mortificante dentro il quale viviamo tutti quanti perché non ci dicono che è possibile inventare l'impossibile metti assieme un po' di particolari a me venivano i brividi quando ho cominciato a documentarmi cercare cose di lei ma tu guarda questa ma tu guarda questa alfonsina io ne parlo come se lo dicevo prima e sono convinta di essere posseduta e sono convinta che lei ogni tanto con qualche personaggio mi succede con lei farò veramente fatica ad abbandonarla farò veramente fatica una donna veramente forte forte perché ha creduto in se stessa andando contro tutto e tutti dalla famiglia alla società però ce l'ha fatta ci ha provato e ce l'ha fatta ha superato i suoi limiti e tu citi come hai detto prima la luna anche quello è un esempio forte questa luna luna 2 la prodo sulla luna dell'uomo allora è un romanzo biografico basato su una persona che è nata nel 1891 non credo di spoilerare come si dice brutalmente oggi troppo dicendo che a un certo punto la protagonista muore però il romanzo poi ha una coda che arriva fino al 2017 quindi insomma di fatto il romanzo non termina con la morte di Alfonsina Strada ma anche quella è stata una di quelle robe proprio da brividi che quando le scopri dici noi che scriviamo diciamo no no questa cosa è accaduta per me perché tutto tornasse in questa cosa che avevo in mente e il particolare è che mentre Alfonsina lasciava questa terra nel 13 settembre del 59 l'essere umano toccava quello che all'epoca era come dire il limite invalicabile non solo dei poeti ma anche come dire reale concreto erano anni che le superpotenze si facevano guerra per arrivare una prima dell'altra a toccare la luna e nei minuti esatti in cui Alfonsina se ne andava il Lunik 2 una sonda russa il Luna 1 aveva mancato la la luna qualche mese prima di poche centinaia di chilometri ma in quel momento il Lunik 2 tocca la luna e quindi l'uomo aveva raggiunto il suo limite invalicabile a partire da quel momento ne poteva immaginare uno ancora più grande ancora uno più sconfinato quindi qualcuno che più di Alfonsina Strada ci dice che limiti non ne abbiamo io non ce n'è non ce n'è non ce n'è è stata veramente un un iperbole quasi una roba incredibile dalla nascita fino all'ultimo momento morta in motocicletta morta cercando di mettere in moto una bicicletta che si era ingolfata e non voleva partire si è accasciata su questa motocicletta nel 59 per cui la donna anche lì in moto su una motoguzzi immaginiamocela la motoguzzi rossa ha fatto ciò che voleva fare ed è questo bello di Alfonsina c'è una donna nata a fine ottocento non sono i tempi di oggi dove tutto è permesso tutto è normale tu ti immagini una donna di di quasi 70 anni che va con la motoguzzi rossa ma ti immagini c'è già oggi avremo modo di dire ma sta a casa va a dare i nipoti è per questo che dico che è un libro da legge perché abbiamo detto tanto è vero siamo andati per punti abbiamo ci siamo focalizzati sui temi però c'è tanto ancora da leggere da scoprire sul libro perché la vita di Alfonsina è stata piena e poi penso che per te sia stato anche difficile scegliere cosa scrivere perché è stata una vita piena ci sono state due guerre la marcia su Roma e tante cose quanto è stato difficile scrivere un libro un romanzo di questo genere in quanto tempo l'hai scritto intanto? un anno che non è poco perché io di mestiere faccio questo non è che che non so faccio l'impiegata e scrivo faccio la giardiniere io scrivo questo è il mio mestiere e quindi significa stare per un anno tutti i giorni ora al giorno a ragionare su questa cosa dopodiché giustamente come dicevi Alfonsina Strada ha attraversato due guerre mondiali il ventennio i prodromi del boom economico è chiaro che devi anche riprendere in mano proprio i libri di scuola perché devi raccontare fra l'altro quel giro d'Italia si è corso nelle settimane nei giorni in cui veniva rapito e ucciso Matteotti quindi è chiaro che anche la storia quella con la S maiuscola entra qua dentro e te la devi rileggere io poi sono un maniacale quando scrivo romanzi storici cioè tratti da biografie da vite realmente vissute fatti realmente avvenuti ad esempio e non solo perché per me era una proiezione di Margherita Hacke qua dentro ogni volta in cui nomino la luna e dico la luna stava a metà era un falcetto luna piena effettivamente quella era la fase lunare in quel momento sono andata a cercarmi la fase lunare di tutti gli episodi cioè là dove volevo che la luna ci fosse e quindi un anno non è poco per chi si mette al computer la mattina all'alba e quella è la sua giornata lavorativa però io ricomincierei a scriverlo domattina per stare ancora con lei fra l'altro mi ha cambiata profondamente di solito ti chiedono quanto c'è di te dentro Alfonsina per carità lo diceva Flaubert Madame Bovary Semoy è chiaro che anche l'ultimo dei personaggi insomma l'autore mette sempre dentro qualcosa di se stesso ma in realtà io mi accorgo di avere tanta Alfonsina dentro di me io sono cambiata ma io penso sia dentro in tanti di noi poi su di te che l'hai scritto per me però mi ha proprio cambiata ancora di più io che l'ho letto lo rileggerei beh l'ho letto veramente tutto d'un fiato perché è una storia forte è una storia potente una vita incredibile e la penna che l'ha scritto è una penna sapiente voglio dire se si sente che c'è un lavoro dietro importante e appunto ripeto calcolando dell'ampiezza del tempo perché l'abbiamo detto si parla della vita di Alfonsina dalla vita alla morte è dovuto anche scegliere e non è semplice è un lavoro allora io di lei non si trovava tantissimo quindi diciamo che ho messo dentro pressoché tutto quello che ho trovato oltre a ovviamente la storia come dicevo prima quindi è chiaro che non puoi far finta che le guerre non ci siano state che il ventennio non ci sia stato che ma poi questa voler dire andata in Russia si è esibita per il Romanov e quindi ti vai a ristudiare il Romanov e scopri anche delle cose insomma della biografia di questi zar di lei credo di aver messo tutto quello che sono riuscita a trovare sul resto sì devi andare a selezionare e trovi e selezioni diciamo lasciandoti guidare dai temi che hai scelto quindi tutto quello che mi tornava a proposito dei temi di cui abbiamo parlato ecco ho fatto una selezione in quel senso lì di Alfonsina però credo di aver messo dentro veramente tutto poi certo è una storia che inizia il 16 marzo del 1891 e termina l'11 luglio del 2017 eh ne è successa tanta di roba al mondo lì sì ho dovuto selezionare un po' allora noi adesso siamo in chiusura io per chiudere vorrei sottolineare una frase che è scritta che mi è piaciuta particolarmente ed è tratta di un momento in cui la madre è a Parigi Virginia con la figlia e le chiede se è felice chiede alla figlia se è felice e tu scrivi che ha avuto la fortuna di essere felice per un istante purché se ne renda conto può rivivere quel momento ogni volta in cui lo desidera qualunque cosa accada a me questa frase è piaciuta particolarmente perché tante volte ci lamentiamo della vita quotidiana che abbiamo mentre dovremmo anche pensare alle cose belle che abbiamo vissuto perché se pensiamo a quelle cose belle lì forse un sorriso ci viene fuori Alfonsina era felice perché sapeva di essere stata di aver vissuto la vita che voleva vivere di averci provato e per concludere io volevo proprio sottolineare questa frase perché è una frase che dovremmo ricordarci ricordarci delle cose belle dei momenti che ci sono accaduti belli e che ci possono riportare un sorriso anche quando stiamo magari vivendo un momento no io credo che la felicità comunque sia qualcosa di ancora più violento passami il termine del momento bello i momenti belli sì sono momenti belli ma essere felice anche solo per un minuto io credo che non sia una cosa una fortuna che capiti a tutti e secondo me te lo ricordi cioè se un momento di piena felicità è una roba poi che ti tiene caldo sempre anche quando fuori è freddo che ti fa compagnia sempre anche se sei solo la felicità deve essere una cosa che ti rimbecillisce nel momento in cui succede diventi altro da te grazie 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 a tutti grazie alla biblioteca di Terni grazie 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 un libro ovviamente da leggere perché è pieno pieno di vita vita passata e vita anche quotidiana possiamo dire grazie a tutti per essere stati qui con noi grazie 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 grazie